E' qui con noi stasera Merry Christmas Peter Pan Come è iniziato questo sodalizio con l'associazione? Semplice, mi hanno chiamato e io ho accettato Questa è la cosa col cuore e volentieri, insomma è un piacere Cercheremo di allidarli qualche minuto con qualcosa di divertente Che parlerà di? Mamme Brava! E come saranno viste queste mamme? Come super donne, come quello che so Come caleranno un po' i papà La qualità dei papà Però le mamme sono un mario Eh, sempre, sempre Ci puoi accennare proprio... No, no, non muovere No, niente Già il pezzo è breve, lo brucio pure e finito Allora fai un saluto a RB Casting RB Casting, il pezzo è breve ma intenso Ci divertiremo Mi sta a seguire o così? Parlo così? No, no, no Stai registrando? Sì, 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 seguono tutti Grazie Anche io, ma grazie a voi Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti